Pillole del giorno, è un momento duro, non so perché mi è venuto il sorriso, però sappiamo tutti che è un momento difficile, seriamente, ci sono un sacco di menate, però c'è anche qualche notizia un pochino più incoraggiante. Allora Google tirerà fuori in sostanza un 800 miliardini, più di preciso 340 sono quelli che interessano di più a noi, che verranno dati come pubblicità gratuita su Ads per tutte quelle piccole e medie imprese che avevano già account attivi nel 2019, in estrema sintesi, poi lo dovrei leggere meglio, non ho ancora approfondito molto, però il succo è questo, lo rilasceranno loro, ci avvertiranno e avrai un certo budget da spendere nel 2020. E' una bella boccata d'ossigeno in tempi come questi. Sempre su Ads c'è una piccola novità che puoi condividere gli audience fra un account e l'altro, quindi il manager di tutti gli account può condividere, è una cosa molto molto interessante. Tra l'altro credo che avvantaggerà chi gestisce tanti siti rispetto a chi ne gestisce pochi e piccoli, cosa curiosa. Vabbè, Pinterest migliora, ancora nuove forme di Ads, sempre metodi migliori e più efficienti per fare vendita, shopping, quindi è una piattaforma da seguire tanto. E soprattutto, per andare un po' a noccio della faccenda, cosa succede in questo periodo? Vabbè, che tanta gente sta fermando gli investimenti, come è normale, come è legittimo, perché hanno l'attività ferma, perché ora non possono vendere, non possono produrre, come è giusto che sia. Cosa però succede allo stesso tempo? Se andiamo a guardare alcuni dati curiosi, vediamo che c'è un'impennata di gente che cerca come fare un nuovo sito, che si sta domandando come proseguire le proprie attività adesso. Se fai consegne a domicilio, se fai e-commerce, puoi mantenere vivo la tua attività, puoi anche offrire un servizio, entro certi limiti. Quindi è giusto, c'è qualcosa che sia anche corretto. E probabilmente tutta questa cosa è più che giusta. Allora, per diversi motivi. Se sono un'attività di quella che ha bisogno di far crescere il lead, di maturarlo, nel senso, mi conosci oggi, ci parlo due mesi, compri fra due mesi, beh, questo è il momento per fare pubblicità. Fra un paio di mesi, tutto questo speriamo finisca e raccolgo ciò che ho seminato. Se invece ho un'attività che in questo momento è ferma, ma appunto con una consegna a domicilio, con un micro e-commerce, un e-commerce locale, in qualche maniera, quello che potrebbe essere il local inventory ads, cioè gli annunci collegati al My Business, che da noi non sono ancora attivi, però emuliamoli. Usiamo il My Business, troviamo tutti quei sistemi del classico gioco del come vendere online senza avere un e-commerce. Eh beh, queste cose potremmo svilupparle adesso, o comunque, sicuramente, è stato già detto mille volte, però sicuramente non è il momento per ozziare. Cioè, purtroppo, stare seduti sul divano a guardare la televisione è bello, piacevole, ma non risolutivo. Quindi, in questo momento qui, chiamiamo i nostri clienti e lavoriamo anche noi sul nostro e cominciamo i nostri clienti a fare altrettanto, è il momento di migliorare il loro prodotto, di fare tutto quello che non hanno mai avuto il tempo di fare. Ma dalle cose più semplici, non hai mai avuto il tempo di fare delle schede di prodotto? Divertiti! Non si scappa, ora è il momento di farlo. E quindi, niente, è finita lì, però, secondo me, alcune di queste notizie sono, almeno per il nostro campo, sicuramente interessanti e speriamo, appunto, una boccata di ossigeno che fasta meglio tutti gli attori coinvolti. Buona giornata. Ciao!